Quale festa canteremo in un mondo sempre armato? State attenti dove andate, non tenere le rose in mano. Non ve chiesa, non ve canto, se il fratello è il calpestato. O Signor trasforma il cuore, che di pietra in cuore umano. Quale Pasqua attenderemo in un mondo sconsolato? State attenti dove andate, nel tenere l'olivo in mano. Non ve chiesa, non ve pace, se il nemico è calpestato. O Signore trasforma il cuore, che di pietra in cuore umano. Quale mensa costeremo? Dove il povero ignorato? State attenti dove andate, nel tenere la coppa in mano. Non ve chiesa, dove il pane, non si spezza l'affamato. O Signore trasforma il cuore, che di pietra in cuore umano. A che notte ci avviamo, in un mondo rabbugliato? State attenti dove andate, nel tenere la torcia in mano. Non ve chiesa, dove l'olio dell'amore consumato. O Signore trasforma il cuore, che di pietra in cuore umano. O Signore trasforma il cuore, che di pietra in cuore. Merino essere tram illuminati per la parola. O Signore trasforma il cuore, che di pietra e decorano se sanno sentito fino a mano. Grazie a tutti.